Cari smanettoni, oggi è una giornata produttiva. Oggi vedremo come utilizzare l'SPD per lanciare sequenze e click tramite la scheda audio, perché spesso può capitare che avete bisogno di usare Logic o qualsiasi altra digital audio workstation per lanciare le sequenze, ma al contempo avete bisogno di ascoltare il click dell'SPD sempre nelle vostre cuffiette, quindi può essere un metodo utile. Andiamo subito a vedere. Per prima cosa inserite un jack nella uscita cuffie della SPD e collegatelo successivamente a un input della vostra scheda audio. Nel mio caso sarà l'input 11. Tutto quello che dovete fare adesso è armare la traccia e armare anche l'input del monitor, in modo che anche se cambiate traccia Logic continuerà comunque a ricevere il segnale. Come vedete è molto semplice. Spero sia stato produttivo, se il video vi è piaciuto non mi dimenticate di lasciare un like e condividete. A presto!